La formazione professionale per un'attività sempre più qualificata che possa reggere meglio la crisi e che possa confrontarsi con le varie realtà imprenditoriali al passo con ciò che il mercato chiede professionalità, specializzazione, ricerca ed innovazione per essere competitivi punti di forza dell'orientamento aziendale di Zingrillo.com che organizza spesso Open Day per offrire attraverso esperti del settore figure professionali qualificate utili strumenti ai propri clienti focus quindi sul settore pizzeria analizzando i vari tipi di ingredienti, impasti, lavorazione e cottura nonché sulla tradizione di innovazione, sull'utilizzo delle verdure, sullo studio dei gusti e l'elaborazione dei menù sulla tecnica e tecnologia in cucina un'occasione anche per confrontarsi con colleghi e cogliere nuove opportunità Il nostro motto che appunto Zingrillo.com è del tuo business va supportato secondo la nostra filosofia familiare e aziendale con dei corsi di formazione a cui noi teniamo molto I nostri operatori sono dei professionisti questi professionisti vanno supportati con della formazione una formazione disinteressata per la quale noi ci affidiamo a dei professionisti sempre del settore come chef rinomati e importanti sia nell'ambito appunto ristorativo che nell'ambito della pizzeria Grazie 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 Grazie